Date un'occhiata a questa stupenda proprietà da Berry Plant. Non perdete l'occasione, questa bellissima casa potrebbe essere la vostra. Comprende? Una stupenda cucina funzionale che farà piacere ai cuochi della famiglia. Gradevole camere da letto che offrono abbondante spazio a tutti. Questa proprietà soddisferà ogni vostra esigenza. Prenotate oggi una visita! Grazie a tutti!